Eroi in prima linea nei difficili mesi della fase acuta della pandemia, ora dimenticati o quasi. E in estrema sintesi la storia di alcuni OS, operatori sociosanitari, raccontata da uno di loro, il signor Riccardo Balzani, che non nasconde l'amarezza per l'attuale situazione di disagio ed incertezza sua e di molti colleghi. In una lettera spiega l'impegno da inizio pandemia, dall'aprile 2020, ad affrontare l'emergenza Covid negli ospedali della provincia. Avevano dato disponibilità a lavorare nei reparti sprovvisti di un numero sufficiente di operatori, nei quali serviva un supporto per affrontare l'emergenza sanitaria, rispondendo agli avvisi di ricerca di personale specializzato banditi dalla protezione civile. In base ad una graduatoria redatta dall'Asla, l'assunzione a tempo determinato presso i vari ospedali, soprattutto nei reparti di medicina Covid. Durante la pandemia, spiega il signor Riccardo, abbiamo affrontato tutte le fasi dell'emergenza, con dedizione, zelo e grande fatica, sia fisica che mentale, rischiando ogni giorno di contrarre il virus e di contagiare i nostri familiari a casa, facendo del nostro meglio per essere d'aiuto in qualsiasi situazione di questo difficile momento. Ora vorremmo solamente conoscere e avere delle risposte sul nostro immediato futuro lavorativo, in vista della prossima scadenza dei vari contratti a tempo determinato, considerata anche la possibilità proposta nella legge finanziaria 2022 di poter stabilizzare il personale precario che ha lavorato nel periodo di emergenza Covid presso gli ospedali italiani. Già perché il loro contratto Covid scade a fine marzo. Chiediamo, conclude l'operatore, che qualcuno si interessi e dia voce a tutti quelli di noi considerati tra gli eroi della pandemia nel periodo più critico, che possano vedere riconosciuto il costante e continuo impegno e dedizione dimostrati in tutti questi mesi di emergenza sanitaria, affrontata senza mai tirarsi indietro, non solo a parole, ma con i fatti.